salve a tutti sono andrea conti trombonista dell'orchestra dell'accademia nazionale di santa cecilia e come moltissimi di voi in questi giorni sono a casa io e il mio collega aduardo giacchino ci auguriamo di tornare il prima possibile a suonare insieme a noi restiamo a casa ma non vediamo l'ora di tornare in auditorio con voi a presto